Radio Radicale, siamo con Marina Sereni del Partito Democratico, responsabile degli enti locali, per parlare del voto delle elezioni amministrative, che ha segnato un'importante riconferma del PD in alcuni importanti roccaforti, come in Toscana, un successo anche in Lombardia, dove c'è stata un'importante conferma dopo la vittoria al primo turno di Bergamo, però ci sono anche stati dei fatti, degli episodi negativi come Ferrara e Forlì. Allora, complessivamente com'è andata? Complessivamente c'è una forte tenuta del centro-sinistra che dal 2014, anno in cui ebbe una grande affermazione, poi negli anni successivi aveva avuto sempre delle sconfitte, quindi c'è un'inversione di tendenza, e questo è molto importante, un'inversione di tendenza con molte conferme, sia al primo che al secondo turno, lei ha già citato Cremona, ovviamente Prato, abbiamo conquistato Rovigo, che era una città del centro-destra, abbiamo riconquistato Livorno, che aveva avuto un'esperienza di governo del Movimento 5 Stelle, insomma abbiamo avuto degli ottimi risultati. Poi ci sono anche delle sconfitte, come quella che lei ha ricordato di Ferrara e di Forlì, abbiamo avuto dei risultati negativi in Umbria. Questi dati sono, primo, molto riconducibili a vicende locali, secondo, sono legate anche alla difficoltà di costruire un centro-sinistra ampio, unito, plurale. Quindi se dovessimo dare una lettura nazionale dovremmo dire soddisfazione per le tante conferme e vittorie. Quando ci sono stati dei risultati negativi, andandole a analizzare, ci si conferma della necessità di saper rinnovare noi stessi e il centro-sinistra. Allora, come sa meglio di me, in molte circostanze i giornalisti ricamano un po' sopra su alcuni esperimenti o comunque su alcuni possibili accordi di desistenza. Allora, in Molise, secondo lei, che cosa è successo? Ma, per la verità, i dati non dicono molto perché c'è stato un fortissimo astensionismo, non solo in Molise, in tutte le città che sono andate al ballottaggio, noi abbiamo una quasi metà degli elettori che hanno deciso di non andare. Evidentemente non hanno trovato tra i due candidati al ballottaggio un candidato per il quale valesse la pena di uscire da casa o tornare prima dal mare. Quindi è difficile capire che cosa è successo. Gli studiosi e gli analisti dei flussi ancora non ci hanno dato questi elementi, cioè chi si è astenuto e perché si è astenuto. C'è stato un po' un caso Molise solo perché l'unico comune, il Campobasso, era l'unico comune in cui andava al ballottaggio un candidato dei Cinque Stelle che ha vinto. Con l'aiuto del PD? Con l'aiuto del PD ufficialmente no. Certamente non dubito che una parte degli elettori del centro-sinistra, dovendo scegliere tra un candidato leghista e un candidato del Movimento Cinque Stelle, peraltro persona assolutamente ragionevole e preparata, abbiano scelto il candidato del Movimento Cinque Stelle. Non ci vedo nulla di male. Penso che nel ballottaggio funzioni così, ma certo è che il quadro nazionale va in un'altra direzione perché il quadro nazionale è sempre centro-destra contro centro-sinistra. Non mi pare che si sommino i voti di Lega e Movimento Cinque Stelle, non c'è più l'effetto tutti contro il candidato del PD e questo è un fatto positivo perché noi negli anni passati avevamo registrato questa somma impropria di voti della destra con quelli del Movimento Cinque Stelle e si conferma che l'unica alternativa a Salvini e alla destra di Salvini è il centro-sinistra. Siete preoccupati per quello che è successo in Emilia? In Emilia abbiamo vinto 174 comuni, il centro-destra ne ha vinti 45 e un 15 vanno ai civici. Quindi siamo preoccupati perché ci dispiace che delle città importanti come Ferrara vadano al centro-destra e alla Lega, ma non posso dire che la Lega abbia sfondato in Emilia Romagna. Sappiamo che la battaglia per le regionali sarà una battaglia combattuta e queste sconfitte ci accentuano nella necessità di essere aperti e inclusivi, ma siamo anche convinti che la buona amministrazione della regione guidata da Stefano Bonaccini sarà alla base del giudizio degli elettori e alle prossime regionali. Lei ha visto quindi un riassorbimento dei voti del Movimento Cinque Stelle da parte del PD? No, questo è impossibile da dire. Con questa astensione è difficile giudicare. Leggeremo dagli esperti, immagini del Cattaneo, Utrend, altri faranno le loro analisi e le guarderemo con attenzione. Certamente non mi sembra che ci sia quell'effetto, dicevo poco fa, in cui si sommavano i voti di Lega e Movimento Cinque Stelle. Adesso non mi sembra che ci sia questo effetto e quindi sappiamo di avere una partita aperta davanti, di essere competitivi anche per le prossime regionali che si disputeranno nei prossimi mesi e sappiamo che sicuramente un'alternativa al governo Salvini, ad una destra guidata da Salvini, può costruirsi solo attorno a noi. Ultima questione, qual è il risultato più emblematico di questo secondo turno dell'amministrativa? Ma guardi, ci sono molti risultati interessanti e particolari. Faccio alcuni esempi. A Nola il centro-sinistra non aveva mai vinto, si è costituita una coalizione civica senza simboli di partito, a cui però il Partito Democratico ha dato il suo contributo e ha stravinto ed è una novità assoluta per quella terra. In Puglia quattro capoluoghi su cinque oggi sono governati dal centro-sinistra. Nei ballottaggi di ieri nove erano del centro-destra, il centro-destra ne riporta a casa solo tre, tre erano del centro-sinistra e nove invece ne porta a casa il centro-sinistra. Quindi c'è un ribaltamento in una regione importante del mezzogiorno come la Puglia. Quindi ci sono dei dati importanti che sono delle conferme dal nord al sud e c'è anche un'evidente capacità espansiva. Ma questa capacità espansiva non viene da sé. il segretario Zingaretti ha detto che questo è solo l'inizio. Sì, è solo l'inizio perché se il PD non si rinnova, non migliora se stesso, non cambia se stesso e non costruisce un nuovo centro-sinistra, l'alternativa nazionale non si costruisce. Se invece facciamo questo sforzo di apertura, di inclusività, di rinnovamento, noi siamo convinti che l'alternativa al governo giallo-verde, ma anche al governo di Marco Salvini sia possibile. Ringrazio, ringrazio Marina Sereni, responsabile enti locali del Partito Democratico.